Ciao a tutti e ciao a tutti, benvenuti a un'altra puntata degli A Giusta Film, podcast sul cinema italiano e dintorni, dove Damiano e Enrico prendono dei film italiani di ogni epoca e tentano in qualche modo di riaggiustarli, rendendoli migliori o perlomeno capire che cosa è successo durante la loro produzione, perché veramente a volte le domande sono tante e le risposte, ahimè, niente e nessuna. Io sono Damiano, sono un ricercatore media e videogiochi in Italia, ma ho appassionato di cinema da sempre. Io sono Enrico, sono un dialoghista, lavoro nel mondo del doppiaggio e ho il blog Doppiaggi Italioti. E in questa puntata analizzeremo un film un po' a sorpresa, perché poi in realtà non l'avevamo pianificato, perlomeno non direttamente, ci aveva sempre un po' interessato, io l'avevo in lista da un po'. Anch'io. Però non sapevamo se sarebbe stato effettivamente oggetto di una puntata, ma dopo averlo visto abbiamo concordato che c'è da parlare, c'è da parlare. Il film, come avrete intuito, perché siete degli ascoltatori e ascoltatrici molto attenti, è Come dura l'avventura del 1987, diretto e scritto da Flavio Mogherini con Lino Banfi, Paolo Villaggio e anche Gastone Moschini. Un film strano, una commedia molto strana, che inizia dalla Locandina che fa il verso a Indiana Jones, quindi già imposta delle strane aspettative, potremmo dire. Esatto, più è girato in Tunisia, dove anche è stato girato il primo indie, quindi ci sono sicuramente dei tentativi, o perlomeno l'idea secondo me era di fare una satira, possiamo dire, dei film ad avventura americani. Il risultato invece lascia abbastanza... Dici? Secondo me la produzione voleva più o meno questo, in senso un film comico che prendesse un po' in giro appunto il filone avventura stile Indiana Jones con due comici all'epoca di Grido. Poi certo il risultato, appunto come detto, non so esattamente che cosa volesse fare, questo poi dobbiamo cercare di capirlo noi e cercare di aggiustarlo e so cazzi come... Sì, dobbiamo capirlo insieme perché ancora mica lo abbiamo capito, che cacchio di film vuole mai essere. No, no, non si sa, non si sa. Che chiaramente dal cast ti aspetteresti un tipo di film. Certo. Poi mentre guardi il film già dall'inizio dici ma che film è? Alla fine del film ancora c'è questa domanda, ancora non si capisce. Andiamo per ordine. Sì, dobbiamo dire come lo conosciamo e qui dobbiamo subito confessare una cosa, cioè che sia io che te l'abbiamo sempre confuso con altri film, in particolare con... Sì, con Pappa e Ciccia. Con Pappa e Ciccia che ovviamente vede gli stessi interpreti e comunque c'è una parte insomma un po' avventurosa, quindi con Paolo Villaggio, insomma la scenena aereo. Anche qui c'è l'aereo scassato. Esatto, Semi e Lupini, insomma, insomma quello è un film molto più citabile, molto più divertente. Assolutamente. Come dire, sembra quasi fatto apposta, poi non lo era ovviamente, cioè sembra quasi fatto apposta per confonderli così qualcuno si sbaglia e guardi come dura l'avventura invece di Pappa e Ciccia, ovviamente sappiamo che non è così, però insomma ci lascio questa idea. Però ecco, come dura l'avventura credo appunto che io comunque non lo conoscessi, ecco proprio in generale non credo di averlo mai visto in tv, se l'ho visto l'ho completamente dimenticato. Credo tra l'altro di non aver mai visto nessuna scena, anche perché come YouTube, insomma o cose del genere, perché non credo che ci siano scene così divertenti da metterle come spezzoni, quindi... Se lo cerchi, se sai cosa cercare, sì, però non è di quelli che viene ripubblicato tipo le scene del cinema italiano. L'ho citato da qualcuno. È abbastanza semi-sconosciuto. Io, rivedendolo, non mi veniva niente in mente fino alla fine quando sono sulla scialuppa e mi è tornato in mente che il film in cui Banffi e Villaggio si stanno spellando al sole in una scialuppa di salvataggio, in Persi nel mare, è questo film, l'ho riscoperto. Quindi l'avrò visto una volta da bambino, immagino la delusione. L'ho trovata. Proprio una vaga memoria, quindi l'avrò visto una volta forse all'elementare, insomma. Quindi potrei dire che non l'ho mai visto. Era anche nella mia lista di film da vedere, perché un po' mi incuriosiva questo film, con questi due comici, con questa locandina avventurosa. Mi aspettavo un po' un Pappa e Ciccia, onestamente. Una copia di Pappa e Ciccia che era di qualche anno prima. Parliamo brevemente della trama. Per fortuna non c'è tantissimo da dire, quindi dovremmo fare abbastanza in fretta, perché poi il film perde un sacco di tempo, quindi poi non c'è molto narrativamente da dire. Apriamo su Paolo Villaggio, che fa un po' personaggio alla sua solita fantoziano, ma non troppo, tutto sommato. Quindi è un pochino diverso dal solito, perlomeno. Questo lo mettiamo tra i positivi, eh, casomai ci fossero dubbi. Sì, 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 sì. Che vive, insomma, con questa moglie sovrappeso, lo vediamo abbastanza infelice, bloccato, come al solito, ma chiaramente questo matrimonio che lo vede perdente, quindi con lei che guarda Dallas bloccata a letto, che mangia in continuazione, lui invece si mangia l'uovo con due asparagi. E sappiamo di lì a poco, appunto, che lui si è sposato un po' per interesse, perché la moglie è la sorella di questo industriale del Baresotto, interpretato da Gastone Moschin. Sappiamo subito che è un po' maneggione, quindi dall'inizio sappiamo che ha problemi di soldi, insomma che sta in una situazione economica un po' così, e quindi nonostante Villaggio voglia andare dal cognato a dirgli guarda mi sono rotto le scatole di tua sorella, invece resta invischiato in questo piano che ha il Baresotto di far affondare la Giulia questa sua imbarcazione, assicurandola e quindi intascandosi i soldi dell'assicurazione e quindi recuperando una situazione economica decente, diciamo. Quindi il nostro ragioniere che fa? Viene incaricato di trovare un po' qualcuno che ovviamente poi la possa portare questa barca e sceglie questo comandante Bigazza, interpretato ovviamente da Banfi, che è anche lui in una situazione abbastanza triste, perché sta a Orbetello con la nipote, una vita triste, vorrebbe suicidarsi, lo vediamo insomma in diverse scene, capiamo che ha più volte tentato di impiccarsi proprio direttamente, questo non so se dovrebbe far ridere, ma vabbè, su questo torneremo dopo, perché non lo sappiamo. Insomma vabbè, Villaggio riesce a convincere il comandante, la nipote viene mandata a casa dell'industriale mentre appunto lui sta in Nord Africa e quindi iniziano queste avventure un po' in Nord Africa di varia tonalità, su questo dovremmo tornare dopo. Incontrano varie persone, tra cui Alessandro Haber, quindi siamo nell'Haber Cinematic Universe, che fa questa sorta di mezzo arabo, mezzo veronese, che sta lì sempre comandato dall'industriale, ma non sappiamo bene per quale motivo sia lì. Incontrano anche un prete, missionario, anzi interpretato da Flavio Bucci, che capiamo poi successivamente porti sfortuna, ma è un personaggio quasi completamente inutile al di là di una scena in cui si scambierà delle battute in dialetto pugliese con Banfi, che chiaramente recupera la scena di viene avanti cretino di qualche anno prima sempre con Banfi, quindi niente di nuovo anche qui, infatti ce ne sono diverse battute riciclate, perché sia mai che ci inventiamo qualcosa di nuovo. Ecco. I nostri si imbarcano, quindi l'idea è che comunque sulla nave che affonda ci deve essere la scialuppa di salvataggio, insomma il gommone di salvataggio, perché altrimenti l'assicurazione non paga, e quindi questa dimenticanza, perché siamo dimenticati di metterlo, causerà che Villaggio finirà sulla nave che deve affondare, quindi sulla Giulia, insieme a Banfi, con l'equipaggio che invece se ne va perché aveva visto il prete Iettatore, e quindi rimangono ovviamente da soli naufragati, mentre intanto la nipote del nostro è vittima di una sorta di esperienza da pigmalione, quindi da cessa inguardabile, viene tutta rifatta in un classico montaggio anni 80, fatto male, ma vabbè, è ripresentata tutta avvenente, attraente, nonostante la nostra abbia 15 anni e mezzo, da quello che sappiamo, e tra l'altro interpretata da Brigitta Boccoli, che scompare poi dai film di lì a poco, e la cosa inquietante è che la stessa Boccoli aveva 15 anni quando ha fatto il film, quindi vabbè, su questo torneremo dopo, e la trama è sostanzialmente finita, nel senso che poi sulla nave Banfi scopre tutto il piano, ma insomma ormai è troppo tardi, perché chiaramente la barca sta iniziando a imbarcare, acqua, e quindi lentamente sta affondando, non riescono comunque a chiamare dei soccorsi, finiscono nel gommone di salvataggio, i due scambiano delle scene, insomma, un po' più... Intime. Sì, intime, o più che uno più serie, per qualche motivo villaggio, tra l'altro dice a Banfi che il piano di far affondare alla nave era suo, anche se non mi pare che fosse suo, cioè ha partecipato, ma non è che l'idea fosse di villaggio, quindi non so perché gliel'abbia detto, ma va bene, e alla fine vediamo, insomma, che i nostri vengono avvistati da un elicottero e il film si è stufato e finisce lì, quindi non c'è una scena finale, basta, quindi insomma una trama abbastanza semplice, volendo abbastanza breve, anche perché poi tutti questi archi narrativi, seppure possiamo chiamarli archi narrativi, che è già molto discutibile, non vengono portati da nessuna parte e muoiono lì, quindi nessuno ha una, non so, una rivincita, cioè abbiamo visto, no? La partenza di villaggio sta in un rapporto, insomma, un matrimonio infelice, ci rimane. Vince il cattivo. Esatto, Banfi era comunque in preda al suicidio e tutto quanto, non abbiamo motivi per cui debba cambiare idea, perché ritornerà presumibilmente alla sua vita nella baracca a Orbetello, quindi vabbè, sì, la nipote sarà più avvenente, non lo so, la manda a battere, non lo so quale sia l'idea, però non è che, non ha motivi per essere più allegro, quindi il cattivo vince, loro rimangono nelle loro vite di merda e basta, quindi niente è stato conseguito, niente è cambiato in tutto questo film, ci siamo solo fatti, insomma, un po' due palle così, in generale, perché, insomma, il film dura troppo, ovviamente, e soprattutto ci lascio con molte domande. E molti problemi, anche. Molti problemi, molti problemi, infatti io passerei subito alla rilevanza culturale, perché qui c'è da dire, c'è da dire. Che è la sezione in cui parliamo delle cose più pruriginose del film. Allora, partiamo da quelle divertenti, che è più facile. Le bestemmie. L'idea di metterci delle bestemmie nell'87 in un film italiano, tu supponevi che è il motivo per cui è un po' scomparso, sicuramente dalla TV. Sì. Anche se togli la P da porca, porca M, è comunque per, diciamo così, il censore italiano. Tra l'altro questo film è prodotto da Rete Italia, quindi praticamente... Sì, da Berlusca. Strano, cioè che... pensavi di mandarlo in TV con tutte queste bestemmie. Sì, non... Boh? Curioso, curioso. Non lo so che cosa... che cosa si pensasse. Sì, ci sono un paio di momenti pure, che... Villaggio pure che dice puttana Eva, e Banfi che dice non bestemmiare. Insomma, quindi il film ne è consapevole che ci sono queste cose, quindi non sono state fatte, lasciate a caso. C'è Banfi che continua a dire a tutti, non bestemmiare mi dà fastidio. E intorno a lui ognuno ha una bestemmia da regalare al film, più o meno grave, insomma. Sì, curioso. Quella di Haber sicuramente è quella più memorabile. È un orca M. Guarda, c'è uno su TikTok, tra l'altro, che analizza i film e le serie TV per trovare le bestemmie. Forse dovremmo segnalarglielo, così magari ci può... Ci può aiutare e confermare, ma insomma è proprio palese, cioè magari mettiamo l'audio in sottofondo, ma insomma... Un po' tipo il... Allora bestemmio, codio di Pozzetto in suono fotogenico. O quello è arrivato a mio fratello, ora non mi ricordo quale dei due. Sì, è piazzata lì e anche questa ci lascia un po' come dire... Boh, ma perché l'hanno... Cioè, a noi diverte ovviamente, perché è molto curioso, insomma, poi a me, insomma, famiglia dei bestemmiatori, chiaramente lo vedo anche questo come lato positivo del film, quindi è una rilevanza culturale per noi positiva, divertente. Però appunto ci lascia perplessi, perché diciamo, perché un film già, come dire, faticoso, no? Insomma, che penso che nessuno abbia creduto all'epoca, sì, è venuto benissimo, penso, più lo carichi pure delle bestemmie, quindi lo rendi pure difficile da mandare in TV, da te... Cioè, perché? Boh, vabbè. Queste altre domande che dovremmo fare a Mogherini, immagino, perché non saprei a chi altro farle. Allora, l'altro ovviamente problema di rilevanza culturale l'abbiamo già citato, che è questa appunto trasformazione della Crista, quindi della nipote, non so se anche il nome è voluto come semi-bestemmia, vabbè, facciamo per... Sicuramente. Mannaggia a Crista, che è la nipote, appunto, abbiamo detto, di Banfi, che si presenta un po' tipo Mariangela, quindi coi baffi, insomma, molto brutta. Di quelle cose esagerate, tipo, si vede benissimo che l'attrice sotto, quel trucco è bella. Certo. Proprio, questa è una cosa molto americana, del... Sì, a una modella avete messo gli occhialoni, i finti baffi, i finti sopracciglia. Una cosa proprio esagerata. Vestita alla Marty McFly, con il giubbotto di salvataggio, nonostante non sia guardia costiera. Però abitava a Orbetello, quindi c'aveva pure senso che c'era questo giubbotto di salvataggio. Insomma, quando la Crista, appunto, va a casa dell'industriale, chiaramente abbiamo questo montaggio, come detto, fatto anche abbastanza male, perché poi il montaggio si ferma con dei personaggi che parlano tra loro, ma ovviamente non si sentono che sotto c'è una canzone sparata, in cui viene trasformata, quindi proprio, ma con il corso di portamento, insomma, ma una cosa seria, quindi non è solo il gli tolgono gli occhiali e i baffi, è proprio tutto un lavoro serio per trasformare Crista, appunto, in una ragazza abbenente. Ora, fosse solo questo, vabbè, potremmo fermarci qui e dire, ok. Ma il problema è che ovviamente Crista diventa poi il fulcro sessuale del film, quindi vediamo una scena in cui chiaramente il nostro industriale sta cercando di sedurla, riuscendoci anche a quanto pare, dicendo, sono il lupo cattivo, e lei, io c'ho una capocetta rossa, tra l'altro lei è doppiata dal nostro Bart Simpson, da Ilaria Stagni, tanto per cambiare, e le toglie, sta proprio togliendo le mutande, poi in quel momento chiama a Banffy e quindi la scena si interrompe, ma ce ne sono altre successive in cui io, boh, penso quasi che il coito sia avvenuto, perché poi lei gli dice, ah, mi ha insegnato tante cose. Eh sì. Insomma, quindi parliamo di un attore come Moschini, che all'epoca aveva comunque una sessantina d'anni, più o meno, insomma, parecchi anni, con una quindicenne, siamo nel reato pieno, cioè qui non è che dici, ci abbiamo, anche poi l'attrice pure c'aveva quindici anni, quindi proprio non abbiamo, ok, nudità non ce ne sono, meno male, se no andiamo tutti in galera. C'è l'inizio dello sfilare le mutandine, che comunque è, insomma, è un po', va un po' sullo spinto. Sì. Diciamo, sì, questa intera trama, sottotrama. Inutile, ovviamente, è inutile. Parallela, poi, all'avventura inutile, è chiaramente per qualcosa di comico, tipo, mentre gli sfigati sono in barca ad affondare il nostro antagonista che si sta facendo, la figlia, la nipote, la nipote minorenne, sì, minorenne, diciamo, per l'ottanta, cos'è, l'ottantasette in Italia, è un win, cioè, il nostro, il nostro cattivo ha vinto, poi, alla fine, perché sì, 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 loro due vengono ritrovate, ma lui, intanto, se la spassa con la nipote. Sì. Il fatto che mi dici che aveva davvero quindici anni, è anche più spiacevole, sei sicuro di questa cosa? Guarda, la Boccoli è nata nel 72, questo è dell'87, dipende anche da quando è girato, forse non ne aveva neanche compiuti quindici anni, quindi, che ti devo dire? Recitava da un po', quindi, per carità, non era il suo first rodeo, neanche con Mogherini, perché ha già fatto un figlio con Mogherini, però, insomma... Sì, diciamo, è difficile vendere questo film all'estero. O perlomeno in paesi che non siano, tipo, l'ex-cecoslovacchia o cose del genere. Esatto. Che sì, anglosassoni sarebbe molto preoccupante. Che poi, tra l'altro, non si capisce perché non farla a diciottenne, cioè... Sì, semplicemente per titillare lo spettatore, non vedo altro motivo perché potevi mettere che c'aveva diciotte anni. Passiamo subito a qualcosa, giusto per aggiustare film, in modo da rendere lo meno pericoloso, meno rischioso. Nel film vediamo che lui ha una scena in cui lui compie gli anni e c'è la gag che toglie una candelina per ogni dieci anni, lui toglie la candelina... Sì, la vette in tasca. Approfittando che, tra l'altro, non c'è mai la gag di lui che prende fuoco, ma anche lì è occasione persa. No, le gag non ci servono. E lei non ci vede bene, ha gli occhiali, ma comunque ci vede poco. Quindi la gag è che lui toglie una candelina per far vedere che ha dieci anni di meno. Anche qui, vabbè. Io pensavo, nel film potrebbe essere lei che compie diciotto anni e il nostro antagonista non vede l'ora che lei compie diciotto anni per fare la sua mossa, non so se mi spiego. Comunque sarebbe un'età molto lontana dalla sua, quindi comunque per lui un traguardo, no? Renderla quindicenne rende tutto molto più spiacevole. Sì. Invece diciotto anni, tipo, lei ne aveva diciassette e quando poi la trasformano, eccetera, eccetera, poi vanno al ristorante e quel giorno, per puro caso, è il suo diciottesimo compleanno. Quindi l'antagonista si sente a maggior ragione. Cioè, potrebbe essere un modo per renderlo meno spiacevole, onestamente. Lo so che in Italia è un vanto, eh. Dico, mi sono fatto una quindicenne e io ne ho sessantacinque, non lo so. Però, insomma, vabbè, è l'Italia, quindi non c'è altro da spiegare. Sì, che poi appunto, cioè, al di là che siamo nell'87, insomma, siamo comunque nel pieno reato avere, fare, insomma, atti sessuali con una quindicenne se avevi, appunto, quasi sessanta come Moschini. Cioè, l'altra cosa preoccupante è che poi non c'è nessuna conseguenza, no? Cioè, il film semplicemente osserva questi tentativi di approccio del nostro. E poi, cioè, non c'è qualcuno che lo becca e quindi poi, oppure che viene punito successivamente dagli eventi del film. No, no. Non succede assolutamente niente. Quindi è proprio una mera osservazione di un vecchio porco che tenta di farsi una quindicenne, chiaramente vergine, poi, cioè, non c'è niente. E ci riesce. Quindi, guarda, veramente disgustoso. Io, ovviamente, ho avuto la fortuna di vedere queste scene proprio di questo vecchio maiale che tenta di farsi questa quindicenne in pubblico, sul mio telefono, in una metro di Stoccolma e proprio in quel momento passavano, ovviamente, tutte ragazzine svedesi molto giovani che, insomma, avranno sicuramente guardato questa cosa e avranno visto la qualità del video che io stavo vedendo. Una, insomma, chiaramente molto giovane a cui venivano tolte le mutande da un vecchio avranno pensato, vabbè, questo è un porco, adesso chiamiamo la polizia, cioè, questo sta a vedere i video... Ti hanno fermato all'uscita. Sì, sì, video pedofili degli anni 70 sta a vedere, che cazzo sta a vedere. Vaglio a spiegare che stavo cercando di fare una puntata degli A Giusta Filme per come dura l'avventura, non avrebbe creduto nessuno, sarebbe finito in galera. Quindi, guardate che cosa rischio per parlare di queste cose, che rischiamo. Non solo ci facciamo del male guardando queste cose, ma rischiamo pure la galera, la galera! C'è il penale, c'è il penale. Insomma, vabbè, aneddoti drammatici a parte, sì, questo ci lascia molto molto perplessi. Quindi blasfemia e pedofilia, quindi vai, ce l'abbiamo entrambe. Quindi rilevanza culturale direi che... C'è tutto. Stiamo messi molto bene. Per quanto riguarda dei riferimenti più pop, velocemente, abbiamo, vabbè, Dallas all'inizio, ovviamente, sappiamo che Dallas compare quasi sempre nei film agli 80 italiani. Certo, era l'ossessione di tutti. Sì, un obbligo da contratto, ma compare anche un altro riferimento di cui abbiamo parlato l'ultima volta, addirittura in professione vacanze, quindi parecchie puntate fa, che è la Vanna Marchi. Mentre Lino Banfi tenta appunto di chiamare aiuto, mentre la barca sta affondando, la sua radio va in interferenze, quindi anche questo immagino richiama la scena di Fracchia la Belvomana con l'interferenza su balliamo, ovviamente perché non ci inventiamo mai niente di nuovo, però stavolta l'interferenza è su Vanna Marchi... Solo che non fa ridere. Esatto. Su Vanna Marchi che tenta di vendere una sottopancia, insomma, per dimagrire al solito, quindi... E io ho commentato dicendo stranamente, quasi per caso, sono andati a prendere uno dei pochissimi riferimenti dell'epoca che è ancora più o meno riconoscibile, perché insomma Vanna Marchi da poco è stato anche oggetto, insomma, un speciale Netflix, quindi è ancora più o meno conosciuta, quindi guarda caso, per puro caso sono andati a prendere una delle poche cose che ancora oggi è comprensibile, però la scena non fa ridere perché ovviamente Banfi non ha nessuna reazione divertente, quindi vabbè. C'è un'altra cosa problematica di cui dobbiamo parlare, lo srubro! Orca miseria, cazzarola, non me l'ero scritto, sì sì sì, ci stavo pensando prima ma non l'avevo scritto, mamma mia, e non l'avrei pensato che questo film avrebbe dato così tanti problemi, dunque, quando i nostri arrivano in Tunisia c'è una sorta di premonizione, non lo so, insomma, di riferimento perché i nostri stanno un po' a bordo di questo cammello, ovviamente Banfi e Villaggio, e sono guidati appunto da questo uomo locale che è molto burbero di poche parole e a un certo punto, insomma, non mi ricordo se Banfi o Villaggio, dicono eh che poi attento che poi questi magari hanno pure i cinque minuti, li gira male e ti sodomizzano. Esatto. Poi si scopre. Si scopre dopo che durante la scena di un matrimonio, a cui i nostri partecipano non si sa bene per quale motivo, si sbagliano e quindi scoprono il capo a una delle donne, chiaramente un po' qui anticipando Gallo Cedrone quasi, usando insomma il velo come tovagliolo per pulirsi durante il pranzo, e quindi questa cosa viene presa malissimo, è Villaggio che è stato lui a fare questa cosa in colpa a Banfi, e Banfi viene preso da uno sceicco, insomma da un po' quello più importante che era lì, portato in una casa in disparte e appunto stuprato analmente, insomma, sodomizzato, ecco, quindi sì. Vediamo che questo arabo lo getta su un cuscino o qualcosa del genere, in una posizione a pecora, ok? La scena si interrompe lì, vediamo un panorama al tramonto e sentiamo Banfi che urla, e poi c'è la scena, la scena, voleva essere comico, come tanti film italiani che usano la sodomia maschile come input comico per far ridere, ma devo dire anche in questo falliscono, perché ci sono alcuni esempi, ci sono alcuni esempi del cinema comico italiano dove possiamo dire che sì, lo capisci che è un ritratto in modo comico, per quanto non tutti magari possano trovarlo divertente, ma diciamo ci sono film in cui mi ricordo è usato in maniera, posso dire anche efficace, tipo quello a puntate in cui ancora una volta ci sono gli arabi, quello con Pozzetto che vende l'imbarcazione a uno sheiko arabo, che poi si pensa durante tutta la sua sequenza che lo sheiko volesse la moglie di Pozzetto, invece poi alla fine si scopre che vuole lui, siccome prima aveva detto dai fai sto sacrificio, allora dopo come vendetta la moglie dice vabbè sacrificati tu, c'è un po' una vendetta su quelle che era una, diciamo un po' meritato nell'economia di quell'episodio, quindi far ridere questa svolta inaspettata in cui lui poi è vittima. Qui è girato quasi come un dramma, io ho fatto la battuta, sembra un tranquillo weekend di paura, è più raccapricciante di un tranquillo weekend di paura, perché non c'è un qualcosa di chiaramente comico nell'esecuzione, anzi il gettare Banffy a pecora e poi il taglio netto su quella scena lo rende molto, non so se si rendono conto che lo rende molto drammatico, non è il tipico mamma mia che dolore, c'è un urlo vero, non è un urlo da cartoni animati, non è un urlo comico e poi dopo Banffy vediamo che va da villaggio e vuole picchiarlo perché lo ha messo in quella situazione e lì cercano di mettere una musica molto comica, ci provano, ma ormai l'immagine mentale di Banffy che viene gettato su un cucina è troppo tardi o troppo tardi e quindi c'è questa scena bizzarra che davvero non mi spiego perché l'abbiano girata in quel modo, potrebbe essere un po' una fissazione di quell'epoca però semplicemente è girata male, però questo film ha anche questa, dobbiamo dirlo. Sì, capiamo che all'epoca lo stupro era ancora molto divertente per la nostra cultura e tanto più se è uno stupro maschile. Stupro maschile soprattutto. Sodomia eccetera ovviamente sì, grosse risate, ne abbiamo parlato anche nella puntata di Attila anche se vabbè non era uno stupro ma era insomma comunque una uccisione tramite palo nel sedere quindi siamo un po' dalle stesse parti, anche quella era girata in maniera semi-drammatica appunto quindi non lo so, c'è un problema dei film italiani di riuscire a capire come renderle divertenti quindi a fronte di qualche eccezione, una l'hai detta tu, ma in generale sì qualche battuta magari può essere divertente, il momento in cui si passa al dunque quindi si vedono proprio delle sce, si vedono vabbè insomma comunque vengono girate delle scene in cui dovremmo capire che succedono queste cose, lì purtroppo si passa sempre con queste tonalità completamente sbagliate perché appunto sì abbiamo detto sto film ha comunque... che è il problema del film intero eh poi ne parliamo tra poco ma insomma ha comunque delle tonalità un po' più serie poi questo film ma non era questo il momento perché appunto dopo come detto ci buttano la musichetta divertente con loro che si menano boh restiamo cioè anche per l'epoca restiamo oltremodo sorpresi e sterrefatti sono a dire boh ma dov'è la battuta? Sbigottiti! Dov'è il divertimento nell'immaginare Banfi violentato analmente da uno? Sì! Boh non lo so ehm... è girato troppo seriamente per essere il film in cui cioè non è il film col pesce spada che casca nel pronto soccorso e finisce nel sedere di qualcuno che comunque era un'esagerazione dell'iniezione che stava per ricevere quindi comunque non c'è un qualcosa di sessuale in quella gag del pesce spada e poi che poi porta al mamma mia che dolore il classico sì no qui siamo molto lontani è girato direi che è un po' l'esorcista del cinema italiano nel senso che l'esorcista era... è famoso insomma per essere girato quasi in modo documentaristico per renderlo più realistico no? Qui è una commedia girata con quello stile non ha senso non funziona e quindi rende più drammatiche queste scene dello stupro dell'arabo ma anche del vecchio che vuole farsi la quindicenne insomma ci sono parecchie cose che lasciano un po' a bocca aperta diciamo... Sì sì su cui il film passa e osserva e non fa nulla non aggiunge nulla appunto magari era divertente appunto sempre parlando di aggiustabilità che ne so che Banfi cambiasse idea no? Dicesse no vabbè ma tutto sommato no? Magari dopo nel film lo ricordava come un evento no? Potrebbe essere divertente che diceva vabbè ma tutto sommato mi è piaciuto non lo so qualcosa che riportasse indietro questo evento... Sì che smorzi un po' la cosa Eh che smorzi un po' invece ovviamente viene citato due volte da Banfi come comunque un evento traumatico subito dopo e poi basta scompare il nulla e quindi chiaramente anche per noi spettatori rimane un evento Anzi rende anche più amaro il dopo perché chiaramente hanno incastrato Banfi in questo progetto e lui non sapeva che la barca dovesse affondare l'hanno preso perché lui è scemo ed ha già tanti affondamenti sul curriculum per questo l'hanno preso e per questo lui non lavorava più tra l'altro quindi quando si ritrova a Naufrago che sta per morire non è una scena che mai... non è girato come le comiche No Dove sì vabbè i protagonisti stanno per morire tra virgolette perché poi il tono del film capisci che non mostreranno una morte Invece questo film va più surrealistico tu mi dicevi stanno cercando di girare una sorta di mediterraneo Sì sì veramente quasi quello il sapore un pre mediterraneo puerte scondite cioè sembra quasi una voglia di serietà Sì 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 antelittera ma sì molto serio a parte alcuni momenti Quindi rende ancora più drammatico il fatto che Banfi abbia subito tutte queste cose per poi finire per quanto ne sappiamo per morire Vabbè poi a parte l'ultima scena che lo vengono a salvare ma fino all'ultimo secondo diciamo ok ha subito tutte queste cose e adesso sta pure per morire Dov'è la rivincita? Sì ci sono situazioni tipo Fantozzi è eternamente sfigata quindi gli vanno tutte male Sì ho capito ma qui stai facendo un film però dove lo giri seriamente in cui queste sono persone reali e non caricature Semplicemente spiacevole vedere tutte queste cose succedere Stavolta Banfi forse vuole fare un'inversione dei soliti ruoli Questo è chiaramente uno tra i primi esempi in cui Villaggio cerca di allontanarsi no da Un pochino Avrà accettato di buon grado Non è ancora il villaggio cattivo degli anni 90 E quello dei film tipo camerieri no? Però c'ha già qualche momento simile Non si è ancora completamente allontanato dal suo Sì quando dice stronzo Haber per esempio Sì 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 Viene un po' dal nulla ma sì inizia a insultare Haber così gratuitamente non si capisce bene per quale motivo Sull'è popolare io andrei molto velocemente Non è popolare questo è un film rimasto semi sconosciuto Che non passa quasi mai in tv Forse per i motivi che abbiamo detto ma chiaramente non possiamo esserne certi Però insomma è rete Italia quindi su quello poi insomma non ci sarebbe nessun motivo di non passarlo in tv Però ecco io tv non l'ho mai visto penso passi molto raramente Ora ne parliamo perché è passato diciamo di recente quando stiamo registrando questa puntata Però ecco non direi che in generale non passa molto spesso Sì quando diciamo non passa noi stiamo parlando della nostra esperienza da ragazzi negli anni 90 Giusto certo certo Io non lo ricordo così frequentemente in tv quindi secondo me sì è passato molto in sordina poi Ultimamente forse passa più spesso perché tanto ci buttano tutto per riempire le mattinate Infatti l'ho visto un sabato mattina anche se lo avevo già in listo Ho detto vabbè visto che non ho nulla da fare oggi ne approfitto per togliermi soffi E devo dire che dall'inizio la mancanza di un tono coerente mi ha subito interessato Ho detto Damiano guarda questo film Quando è arrivato il montaggio di lei che viene trasformata in una donna in una ragazza bella Ho detto ok questo è sicuramente per noi E ti leggo un commento su youtube perché di questo film poi si sa davvero poco Per riallacciarmi alla semi sconosciuto eccetera eccetera Film purtroppo tra parentesi e ingiustamente semi sconosciuto anche a molti fan degli anni 80 Con venature drammatico poetiche E coraggiose battute sulla religione Cioè bestemmia stai dicendo Esatto coraggiose bestemmia Non abbiamo detto c'è anche questo filone religioso in cui Banfi cerca di riportare Allora Villaggio fa l'ateo contro la religione Quindi fa probabilmente se stesso E ci sono vari momenti in cui si parla di fede Anche quelli dicono perché l'avete messo in questo film E alla fine Villaggio cerca un po' di assoluzione E Banfi si mette a pregare però non sanno le preghiere Quindi si mette a cantare quel mazzolino di fiori Questa è la gag finale Tra l'altro un discorso serio finale che non finisce più su quella zattera Elementi inaspettati per una tipica commedia anni 80 Allora questo film non è una tipica commedia È proprio la tipica commedia Sì 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 infatti per questo ne parliamo anche Se fosse stata tipica forse non avremmo neanche presa in considerazione Che perciò la rendono ancora più unica nel suo genere Cuoricino Grazie per questo reperto Un altro risponde a un finale che ho visto poche volte Nelle commedie anni 80 più spicciole Una perla dall'intaglio raro Cazzo Ok allora passiamo alla giustabilità Allora direi che su queste note deliranti Sempre ricordando il cesso chimico Abbiamo ricordato all'inizio di puntata Che questo film è diretto da Mogherini Mogherini è sempre stato uno che ha fatto insomma Diverse cose particolari Quindi non era chiaramente un regista classico Della commedia anni 80 Quindi è passato da cose tipo Dirigere i camionisti con Gigi Andrea A cose un po' più particolari Tipo le braghe del padrone Per vivere meglio divertitevi con noi Ha diretto anche Sbirulino Insomma per dire una Quindi io immagino che questo film sia proprio suo Perché noi alla sceneggiatura vediamo altri due nomi Comunque interessanti Come Bencivenni e Saverni Che all'epoca comunque Dopo questo Avrebbero scritto insomma cose decisamente più sfiziose Come Fantozzi va in pensione Le comiche Anche lo stesso Io speriamo che me la cavo Qualche anno dopo Film molto più divertenti di questo Quindi il fatto che qui Manchino del tutto battute comiche Nonostante la presenza di questi due nomi Che sappiamo Insomma qualche battuta la sanno scrivere Ci fa pensare che Mogherini Abbia un po' avuto la mano principale Su questa sceneggiatura Per renderla un po' più strana Sì che fosse intenzionale Un po' più atipica appunto Come detto Però il problema è che Sì noi possiamo pure Apprezzare diciamo La tipicità Di come dura l'avventura Il fatto che sia diversa Chiaramente dalla solita Commedia sgangherata dell'epoca Però il problema è A parte quello di cui abbiamo detto prima Che già Tinge insomma la cosa Di tinte abbastanza fosche Di colori foschi Ma Il problema è che La drammaticità deve aver senso Cioè come sempre Cioè deve essere fatta In maniera tale Da seguire un arco narrativo Da portare da qualche parte Cioè qui viene semplicemente messa Alla fine questa scena Tra l'altro interminabile Come hai detto tu De la zattera Con Villaggio e Banfi Che stanno lì E fanno un po' insomma Banfi ha una sorta di visione Del paradiso Insomma Oppure parla di ristoranti Perché ovviamente Stanno morendo di fame Che Sì d'accordo Sì mostrano un po' Insomma un registro un po' Drammatico Diverso dal solito Ma ha poco senso Perché insomma Sì i due hanno avuto Un po' Un rapporto diciamo Che è passato da sconosciuti Da nemici a amici No in qualche modo Sì però A malapena tratteggiato Come rapporto ovviamente Perché parliamo di Commedia anni 80 Figuriamoci se sappiamo Scrivere dei personaggi Ma poi appunto Non porta da nessuna parte Perché il film Di lì a poco Finisce O meglio Si ferma Neanche finisce Cioè proprio Boom stop Cioè proprio quindi Non c'è nessun payoff Non c'è nessun Soddisfazione per lo spettatore Cioè è Piazzata lì Cioè è come avere Vabbè Vogliamo il tono drammatico Da qualche parte Lo dobbiamo mettere Tiè Abbiamo messo alla fine Stiamo a posto Poi che ci abbia senso Con il resto o meno Non ce ne frega assolutamente niente Posso dire che Il registro drammatico Di Banfi è Purtroppo Non c'è mai stato Cioè è abbastanza terribile Villaggio Lo abbiamo già visto In tanti film E sappiamo che Sì È un buon attore In generale Certo E lo sa fare Il registro drammatico Banfi Temo di no La cosa più seria Che ha fatto È un medico in famiglia Il nonno Non funziona Secondo me Nelle scene drammatiche Poi ovviamente C'ha sempre scene comiche Tipo quella del barese Dice ok Quello è il Banfi Che funziona È chiaro a tutti Forse un cast diverso Avrebbe giovato A questo film Non so perché Abbiano scelto Vabbè lo so perché Perché erano Attori di punta Nell'87 Però forse Poteva funzionare Con qualche altro attore Con qualche altro tipo Di recitazione E comicità Oppure Non lo so Lasciare le parti drammatiche A qualcun altro Cioè in questo caso Per esempio Imoskin e Haber Che entrambi attori Estremamente in grado Di farti dei ruoli drammatici Magari lasciali a loro Cioè magari Potevamo vedere Un industriale Che si pente Per esempio Oppure dare una parte Più rilevante Al personaggio di Haber Che magari andava Con loro in barca Quindi in qualche modo Diventava un terzo Nell'avventura Insomma Haber Chiaramente il registo drammatico Lo aveva Molto facilmente Sarebbe stato in grado Quindi Non c'era neanche bisogno Di metterci in altro attore Ce l'avevi Bastava usarli Però Cioè Della serie Vuoi fare un film Serio Con dei toni comici Bene Allora fai che L'industriale È davvero cattivo E ne frega nulla Della vita Di quelli che manda Ad affondare la barca E in quell'avventura Ogni tanto Emergono Momenti Divertenti Ma non Prettamente comici E togli La cavolo di trama Della ragazzina Che viene insidiata Dal nostro Cioè Capito Non Non puoi fare Tutte queste cose Nello stesso film Troppo Che chiaramente ha intenzioni Abbastanza serie Come film Però poi c'è il montaggio Agni 80 Quello lì che le sta Porta a letto Ci sono il lupo cattivo Le musichette sceme Le musiche sceme Chi ha le musiche Da denuncia Il penale Cioè il penale Roba da codice penale No Cioè Le musiche sono fatte Da una tastiera Casio Sono quasi sicure E forse No no Solo da una tastiera Casio Con vari effetti L'effetto sax L'effetto È proprio fastidiosa Sembra Fatta da una sola Persona Che per carità Ci sono tanti film Che funzionano Anche così Ma di solito Lo fanno proprio Per le commedie Quel tipo Quelle commedie Proprio Da quattro soldi Ne abbiamo viste Tante italiane Anche famose Gli stessi Penso Fantozzi Più Quelli più in là No Ma anche Molti Roba da ricchi Insomma Varie Film anni 80 Tutta musica elettronica Fatta Su tastiera E va bene Però questo Non è il film adatto Quello Che cazzo Dopo uno stupro Senti questa canzone Ma che cavo Non ha senso In post produzione Secondo me Si saranno resi conto Qui è un po' troppo serio Non c'è niente di comico Mettigli quella musica Da circo No Per fare un esempio Di film Che prova un po' Anzi episodio Di film Che prova a fare un po' Le stesse cose Che avevamo citato pure In un altro episodio Tempo fa Sibuana Che è appunto L'episodio di Dove vai in vacanza Con Villaggio Segue un po' Delle tonalità simili Perché siamo appunto Sempre in un Ambiente strano Quindi comunque Africano Abbiamo comunque Attori comici Appunto Villaggio C'è Gigi Redder Anche quello Va un po' Su tonalità Un po' Altalenanti Quindi un po' Comico Un po' Drammatico L'intero film Direi però ok Solo che in quel caso Avevi alla sceneggiatura Scarpelli Che insomma Soliti ignoti Cioè uno Della madonna E la regia Luciano Salce Quindi Salce e Scarpelli Sapevano effettivamente Come fare una cosa del genere Che funziona Sì come dosare Sì nonostante Si buona Poi non sia Sta cosa Spettacolare Per carità Però funziona Cioè le sue cose le fa Però è memorabile È memorabile Le sue cose le fa È divertente E ha i toni drammatici Al punto giusto Qui no Sì non pensi mai Perché avete messo Questa scena Sì esatto È un buon esempio No il problema No abbiamo parlato Il problema del drammatico Ma c'è anche il problema Del comico Che non fa minimamente ridere Cioè non riescono Cioè quelle poche cose Che tra virgolette funzionano Sono quelle riciclate Da altri film Quindi tra l'altro Villaggio anche qui Ritira fuori la belva umana Non lo so Proprio un suo tormentone Sì la scena di Banfi e Bucci Che parlano di loro in Pugliese Sì se non hai mai visto Viene avanti cretino Può essere divertente Sennò dici Vabbè questa è la stessa cosa De Viene avanti cretino Fatta peggio ovviamente E a me l'unica cosa Che ricordo Che ha fatto ridere È appunto Haber Che era stato chiamato Da Moschin Insomma Riattacca il telefono E dice Sto figlio da una mignotta Non lo so Ma ha fatto ridere Perché non è normalmente Il personaggio di Haber Dire una cosa del genere E incazzarsi Quindi quello Mi ha colto di sorpresa Ma ha fatto ridere Il film strappa Delle risatine Forse tre o quattro In un'ora E non so Quaranta Quanto d'ora In gran parte Grazie al cast Sì a modo di dire Una battuta Sì sì Però risatine Mai una vera risata Non so se mi spiego Sì sì Quindi troppo poco Per un film Di questa durata E con questo cast Chiaramente Come lo aggiustiamo In questo Questo casino Come al solito Secondo me Andava scelta Una direzione Perché qui Come al solito Sono stati scelti Gli elementi Gli elementi Sono stati piazzati Ma non sono stati Amalgamati tra loro Quindi come ho detto In una puntata Recente È come avere Insomma Un buon cast Un buon Insomma appunto Vuoi fare il pane Hai una buona farina Hai dei buoni ingredienti Però non li mescoli E quindi poi te mangi la farina Lievi da parte E l'acqua E quindi chiaramente Fa schifo Allora volevi fare Una commedia Dai toni un po' Più filodrammatici Avevi appunto Il riferimento di Sibuana Quindi c'era già C'era pure Villaggio Che vabbè Non è più il villaggio Del 78 D'accordo Però comunque Era sempre un attore In grado di farlo Quindi magari Poteva essere facilmente Indirizzato Verso delle tonalità Un po' più serie Un po' più asciutte Qui come abbiamo detto Si non fa il fantoziano 100% Ma 70% Insomma È un pochino più spento Ma poco Ecco siamo sempre Dalle stesse parti Quindi si magari Villaggio Lo mettevi appunto Perché Banfi Non è in grado Villaggio lo mettevi Al centro Di una vicenda Dai toni più drammatici Gli davi soprattutto Un arco narrativo Quindi lo disegnavi Quindi il film Non finiva bloccandosi Ma continuava A recuperare Il personaggio di Villaggio Che abbiamo visto Partiva da un matrimonio Complicato Da un matrimonio triste Comunque viveva Una situazione scomoda Quindi potevano Entrambi mettersi insieme Per rivendicare Le loro situazioni Sconfiggere Tra virgolette Il cattivo E quindi Se non altro Dare una commedia Magari con qualche tono Più serio Che almeno dava soddisfazione Quindi bastava anche poco Cioè in realtà Non è un film così Cioè non l'abbiamo descritto Come irrecuperabile Perché altrimenti Non stava qui Però insomma Come molto deficitario Ma perché appunto È scritto male Però tutti gli elementi C'erano per fare qualcosa Che poteva dare Facilmente soddisfazione È proprio successo Qualcosa Dal soggetto Alla sceneggiatura Alla direzione Quindi direi che la colpa È di Mogherini Che ha reso questo Un papocchio Insomma abbastanza Difficile da mandar giù Però bastava poco Secondo me Per rimetterlo a posto Questo salario Della paura In salsa italiana Falza la pressione Tutto sto salto Onestamente Non saprei Come aggiustare il tutto Però ho detto Una piccola Giustatina Alla storia Alla sottotrama Della nipote Insidiata Quella andava tolto Per me Cioè non l'ho detta Perché proprio Via Togli Sì no è vero Dovrebbe essere tolta Ma non perché Non ci deve essere Sesso È proprio perché Non c'entra Con questo genere film Non mi sorprenderebbe Scoprire che viene Da uno dei tre Sceneggiatori Ma non da quello principale Non so se mi spiego Perché sembra davvero Infilata lì Tipo vabbè Però abbiamo Un villaggio Quindi la gente Si aspetta una commedia Dobbiamo metterci qualcosa Comico Mettiamo un vecchio Che cerca di farsi Una quindi 15 anni Come dicevo Se lo vuoi tenere Trasforma quella In una 17enne Che sta per compiere 18 anni Fa schifo lo stesso Però almeno È più legale Ed è comunque Una vittoria Da parte Dell'antagonista Se proprio ci deve essere Perché 15 anni È davvero troppo poco Se proprio ci deve essere Sì Un grande sì E non mandate in galera Damiano Che poverino Vive a Stoccolma E si guarda Sti film Sulla metropolitana Vabbè che le galere Qui in Svezia Sono quasi meglio Di un monologale Medio Di Torpignattare a Roma Però insomma Via Se posso evitare Di finire dietro le sbarre Soprattutto per la giusta film Magari posso anche evitarlo Per voi Per voi Dove si può vedere o acquistare Dunque io Stavolta lo faccio io Perché già Nelle ricerche ho visto C'è un DVD Ancora disponibile Su Amazon E se invece Non volete spendere Che capiamo Anche perché il DVD Penso che abbia Una qualità infame Che è quella Che hai visto in TV Sta sia su YouTube Che su Dailymotion intero Credo anche su Mediaset Infinity Se non sbaglio Ma tanto la qualità È sempre la stessa Quindi cambia E nel catalogo Mediaset Penso sia sempre lì Chiaramente devi pagare Infinity Però c'è È disponibile Quindi è abbastanza Accessibile E sono tutte La stessa copia di merda Con le rigature Della pellicola Vogliamo il Blu-ray Il restauro No no Per chiarità Però del DVD Ti devo dire una cosa Che sul retro Ci sono due su tre immagini Sono qualcosa di sessuale Oh no Ma perché C'è Al centro C'è un seno Scoperto Di una donna araba E villaggio Che Nel modo in cui L'hanno Insomma fotografato Sembra che faccia La lingua Quella di Fantozzi Arrapato Invece Quella a sinistra Il nostro antagonista Che sta facendo bere Dell'alcol Alla quindicenne E poi Quell'altra È semplicemente Villaggio e Banfi Che parlano È distribuito da Il DVD è Mustang È distribuito da CG Vedo Sì sì È sempre È ancora loro È sempre stata Medusa Però c'è anche Qui Medusa Quindi si sono uniti Per Una volta Era un insieme Questa merda Sì Parliamo del box office Perché nonostante Abbiamo letto ovunque Che questo film È stato un disastro Ha fatto un tonfo In realtà Non è andato così male Come si potrebbe pensare Questo Poi ci Non ci sorprende A me più di tanto Perché Dati i due Interpreti principali Chiaramente Il richiamo Era automatico Uno diceva Ah un film di avventura Divertente Con Villaggio e Banfi Andiamo a vederlo Il produttore Su quello Ci ha azzeccato Dunque Come dura l'avventura Nella stagione cinematografica 87-88 Si piazza Al 55esimo posto Quindi Per dare un'idea Ha fatto Lo stesso box office Quell'anno In Italia Di Arma Letale Quindi Arma Letale In Italia Ha avuto lo stesso successo Di come dura l'avventura Proprio Siamo lì Siamo lì Siamo lì Sapevo che questo Ti sarebbe piaciuto Non avevo dubbi Sono Sono Di pari livello Sì Stesso film Stessa qualità Soprattutto Come memorabilità Esatto Esatto Ha fatto meglio Di molti altri film Tra l'altro Di film italiani Per esempio Ha battuto Il nostro amico Oldoini Che quell'anno Era con Belli Freschi Con De Sica e Banfi Che è un film Che al momento Non ricordo minimamente Ha fatto meglio Anche di De Crescenzo Con 32 Dicembre Che tra l'altro Ho rivisto di recente Anzi visto di recente Perché non l'avevo mai visto E potrebbe essere Un po' impapabile Per una futura puntata Ma è comunque Molto meglio Di come dura l'avventura Ci mancherebbe Molto meglio Sì Ha fatto anche meglio Di Topo Galileo E su questo Non diciamo altro Ci fermiamo qui Ha fatto anche meglio Di Casa Mia Casa Mia Di Neri Parenti Con la Cenci e Pozzetto E anche di Intervista di Fellini E Ultimo Minuto Di Pupiavati Quindi insomma E Tassinare New York Anche di Sordi Quindi insomma Ne ha battuti diversi Di film italiani Ne ha battuti I film Quindi comunque Il richiamo C'è stato Il richiamo c'è stato Per quanto riguarda Film Appunto abbiamo detto Arma Letale Insomma Stesso box office Ha battuto Invece L'implacabile Quindi The Running Man Con Schwarzenegger La piccola bottega Degli orrori Quindi il remake Insomma Dell'originale Quello di Frank Oz Arizona Junior Dei fratelli Cohen E Il signore del male Di John Carpenter John Carpenter Sulle nostre puntate Compare sempre battuto Da qualche film Di merda italiano Quindi ormai Anche questa è una gag Che compare Ancora e ancora Classico E tra l'altro Ha fatto quasi Lo stesso box office Di Ishtar Quell'anno Questo te lo dico Perché avevi citato Ishtar A differenza dell'estero Non è mai diventato Un meme Come è diventato In America Grazie al canale Red Letter Media Che lo ha trasformato In un meme Overnight Cioè Da un giorno all'altro È diventato un meme Come film Commedia Che non funziona E che non vorresti Mai vedere Io l'ho visto Ishtar Ha molto in comune Con questo film Ottimo Ottimo Nel senso Ci sono attori famosi Che cercano di fare commedia Che non fa ridere E ti dici Ma perché avete fatto questo film Questa è la grande domanda Guarda È un parallelo perfetto Ti torna sempre Non dimenticavo Che erano degli sessiani E il fatto che vanno In un paese arabo Quindi anche lì Torna un po' Questa Ci sono dei paralleli Però la domanda principale è In Ishtar C'è qualche uomo Che lo prende nel culo? No Temo di no Perché non è un film italiano E allora E allora è meglio Come dura l'avventura Come dura l'avventura Pince Punti in più Sono sicuro Che non ci saranno Nemmeno quindicenni Che vengono sedute E allora va vinto Come dura l'avventura Dai dai Basta Il discorso chiuso Il discorso chiuso Scusa Ishtar ha fatto più soldi Di questo film Di poco Di poco sì Quarantasettesimo Cavolo Ma è un disastro Ma allora Fa ripensare al disastro Che è stato Armaletale in Italia Esatto Non mi spiego Sì sì Se questo è stato un tonfo Armaletale in Italia È stata una monnezza Perché insomma Se tanto ci dà tanto Allora purtroppo non abbiamo Il nostro donarfio Perché siamo a cavallo Degli anni in cui ha iniziato Il lavoro Quindi questo se l'è perso Però abbiamo il Mereghetti È breve Ma va al punto Per truffare l'assicurazione Un industriale Moschin Mette nei guai Il cognato contabile E un lupo di mare Banfi e villaggio Punto Scenari esotici E marinari Per un insulso Assemblaggio Di sketch televisivi Unica soddisfazione Lino Banfi Sodomizzato Da un beduino Non mi caso Penso che Mereghetti Odi Banfi A questo punto Oddio Queste sono le cose più belle Ma hai sentito In una recensione Veramente Stupendo Eh lo so Già pre-Gustavo Il leggertela Ok E poi vabbè Conclude con Fugace apparizione Di Brigitta Boccoli Come nipote Del lupo di mare Sedotta dall'industriale Punto Questa è la recensione Quello che aveva da dire Mereghetti È la sua personale Soddisfazione Nel vedere Banfi Sodomizzato Se il Mereghetti Avesse potuto Avrebbe tagliato Quella scena E messo 10 ore Di Banfi Sodomizzato For sleep and relaxation Avrebbe fatto sicuramente Per le sue giornate Difficili Mi fa sempre ridere Quando il Mereghetti Si esce dagli schemi Con qualcosa Di bestiale Stavolta Stavolta ottimo Stavolta ottimo Dov'è la cancel culture Quando serve? Ok Con questo penso Si possa chiudere L'episodio Sì In conclusione Dobbiamo parlare Se consigliamo Di rivederlo o meno Ma Ovviamente No Cioè dato quello Che abbiamo detto Capiamo che qualcuno Potrebbe avere Delle serie curiosità Perché insomma Ne abbiamo parlato Come un film Piuttosto Anomalo E strano Se siete dei malati E se seguite il nostro podcast Probabilmente lo siete Insomma diciamo la verità Come detto Non è una visione Particolarmente divertente Non è una visione Particolarmente Stimolante E a tratti È molto noioso Quindi In coscienza Come sempre Avendo consultato Il nostro legale Non possiamo consigliarvi Di rivederlo Tanto più Per la presenza Di quindicenni A cui vengono sfidate Le mutande Quindi posto questo Non possiamo assolutamente Consigliarlo Senza andare tutti in galera Ciò detto Ovviamente Se siete dei malati Appunto Come ha detto Enrico Potrebbe avere Delle curiosità Quindi comunque È online È su YouTube È su Dailymotion Fate voi Ma per noi è no Anche noi siamo dei malati Perché abbiamo visto Questo film Strano No Al netto Di minorenni E stupri È un film Bizzarro Che ci ha catturati Per i motivi Più sbagliati Perché subito Abbiamo detto Questo Dobbiamo assolutamente Parlarne Perché è un film Bizzarro Nella sua esecuzione Tu stai ancora ridendo Per la sua domina Sì Sto aspettando Il momento Per dire Lo volete rivedere Per avere Un'unica soddisfazione Buffy Sotto mezza E con questo Abbiamo concluso Un altro episodio Di A Giusta Film Alla prossima Grazie di averci ascoltato Alla prossima sodomia Ciao Ciao Alla prossima Ciao Ciao